Sono stati condannati in primo grado rispettivamente a 4 anni e 6 mesi, a 4 anni gli imprenditori Vincenzo e Pietro Franz accusati di bancarotta fraudolente e false comunicazioni sociali nell'ambito del fallimento del football club Messina. I due sono stati condannati per 4 delle accuse contestate, mentre la prima sezione del tribunale presieduta dal giudice Silvana Grasso li ha assolti dagli altri capi di imputazione. Condannato a 3 anni e 6 mesi anche Francesco Cambria, presidente della Cofimer e allora componente del CDA del Messina. Sono invece stati assolti perché il fatto non costituisce reato i sindaci Stefano Galletti e Carmelo Cutri e il presidente del collegio sindacale Domenico Santa Maura. L'indagine della Guardia di Finanza riguardato la gestione della società giallorossa e la decisione di non iscrivere il football club Messina al campionato di Serie B 2008-2009. Non possiamo certo dirci soddisfatti di una sentenza di condanna, hanno precisato i legali dei Franz, Alberto Gullino, Giorgio Perroni e Giovanni Cambria, ma già dalla lettura del dispositivo non è azzardato concludere che l'impianto generale dell'accusa non ha retto al vaglio dibattimentale. Confidiamo, hanno concluso gli avvocati, di poter ottenere in sede di appello il pieno riconoscimento della liceità dell'operato dei nostri assistiti anche sulle residuali condotte per cui hanno riportato la condanna in primo grado.